200 persone riunite in una location d'eccezione, un imprenditore e due fondazioni per supportare e realizzare un ambizioso progetto e il risultato è assicurato, 80 mila euro raccolti in una sola serata. Si tratta dell'elegante evento di beneficenza svoltosi a Villa Miralfiore di Pesaro con un obiettivo fondamentale, valorizzare i giovani, futuri cittadini di domani, finanziando l'intervento di ricostruzione della nuova scuola dell'infanzia e di un centro con spazi di studio a Sforza Costa, nel Maceratese, reso inagibile dopo il sisma del centro Italia del 2016. Attori coinvolti sono la storica azienda pesarese Fiam Italia e la fondazione Mediolanum che hanno sostenuto la Andrea Bocelli Foundation, nata nel 2011 per aiutare le persone in difficoltà a causa di malattia, povertà e demarginazione sociale, attraverso la promozione di progetti nazionali ed internazionali che favoriscono il superamento di tali barriere. Uniti si può fare di più è anche il vostro motto e stasera è sicuramente una certezza. All'inizio di questa bellissima avventura che se è vero che da soli si può fare molto, insieme si può fare tanto tanto di più. Secondo me è un po' come si ricorda in un libro sacro, meraviglioso, dove due o più persone pregano, là c'è Dio. Qui possiamo dire che dove due o più persone si mettono insieme per far sì che la vita del prossimo sia una vita migliore, di sicuro c'è del bene. A proposito di progetti, quali sono quelli che avete supportato in questi anni? Nel momento in cui è nata la fondazione abbiamo concentrato le nostre energie in una mission particolare che è legata all'educazione, cercare di valorizzare le possibilità, dare delle possibilità e valorizzare i talenti di chi magari questa opportunità potrebbe non averle per le più disparate ragioni. Nel 2016 a me, a seguito del terremoto che ha colpito la zona delle Marche dell'Abruzzo, abbiamo sentito la necessità di tornare nella nostra terra, nel nostro paese e supportare da vicino in un periodo importante la ricostruzione di queste zone così fortemente colpite. Veri protagonisti della serata, i valori di amore, giustizia e solidarietà, in cui la fondazione Mediolanum crede e sostiene da oltre 20 anni. Da oltre 20 anni ci occupiamo di infanzia, quindi progetti a favore di bambini, ragazzi che si trovano in difficoltà. Occasione stupenda questa sera perché è nata un'amicizia con Fiam che ha messo a disposizione questa magnifica villa per fare una serata di raccolta fondi ed è bellissimo anche il fatto che stiamo condividendo questo progetto anche insieme alla fondazione Andrea Bocelli, insieme a Veronica, sua moglie, sinergia di persone che comunque vivono in ambienti diversi e magari lontani tra loro però mettendosi insieme si riescono veramente a fare tantissime belle cose. Abbiamo aiutato 188 mila bambini e vogliamo continuare a farlo assolutamente perché credo che i bimbi, i ragazzi siano un po' l'anello più debole della società, se si trovano in difficoltà dobbiamo dare una mano. Una serata vivacizzata da momenti musicali ed altri intrattenimenti, ma soprattutto un progetto di solidarietà che rispecchia l'attenzione che Fiam Italia nutre nei confronti del territorio. Noi eravamo a ricerca di un progetto per i nostri 50 anni e abbiamo radunato un gruppo di amici che ha creduto in questo progetto di ricostruzione di una scuola a Sforzacosta, un quartiere di Macerata e ci ha spinto la voglia di riaccendere un faro sul terremoto. Ma quest'anno è anche un anno particolare per la Fiam? Sì, è il nostro cinquantesimo, sono 50 anni, l'azienda è stata creata da mio padre e io e mio fratello stiamo portando avanti e la stiamo facendo sviluppare in giro per il mondo e è come regalarsi qualcosa e fare del bene, forse è il regalo più bello che uno si possa fare.